salve cari amiche ed amici che mi seguite in youtube già da giorni volevo fare questo video perché beh è morto il bravissimo attore italiano che ha rappresentato il nostro cinema italiano in tutto il mondo paolo villaggio agli 85 anni credo ed è stata una perdita per l'arte poi mi dispiace anche per lui che sia morto ma il suo fantozzi e soprattutto fracchia la belvumana ci hanno fatto compagnia per per molti anni beh a dire la verità interpretato più fantozzi che non fracchia la belvumana però fracchia la belvumana era bello no perché lui interpretava fantozzi inibito no veramente vari va di fantozzi vari e poi improvvisamente sbucava fra fracchia no serio incazzato allora è ritornato fantozzi di nuovo qua allora fracchia lo aggrediva loro sputtanava tutto quanto poi quando se ne andava fracchia ritornava fantozzi l'altro era rimasto sconvolto perché mai in vita sua fantozzi o fantozzi avrebbe reagito così e quindi tutte le confusioni che nascevano no fra uno che era un criminale un delinquente un mafioso no fracchia e fantozzi che era tutto il contrario cioè l'alter ego dei fantozzi fracchia è stato veramente formidabile io poi mi ricordo da bambino e da giovane tutti i programmi radio televisivi soprattutto televisivi più che radio nei quali interveniva paolo villaggio facendo da fantozzi programmi televisivi in bianco e nero che sono veramente stati formidabili rappresentando rappresentando prevalentemente fantozzi quindi faccio questo breve video per commemorare fantozzi per commemorare il suo autore paolo villaggio per nome commemorare fracchia e per commemorare i centomila volti di un grande artista che ha fatto anche altre interpretazioni e poi è stato un prolifico scrittore anche se io non ho mai avuto occasione di leggere i suoi libri però dicono che abbia scritto molto bene beh faccio questo video senza dilungarmi troppo perché tanto non solo si trovano i film completi su fantozzi e su paolo villaggio cioè i film completi di paolo villaggio facendo fantozzi e di film completi di paolo villaggio facendo altri ruoli ma si trovano soprattutto in youtube dei videoclip con le scene migliori di determinati film e determinati programmi televisivi incluso in youtube e in internet si trovano le migliori scene dei programmi televisivi nei quali ha partecipato paolo villaggio le interviste a paolo villaggio le interpretazioni di paolo villaggio nella tele i film di paolo villaggio gli sketch comici migliori nei film e nella tele quindi è inutile che mi divulghi di più di lunghi divulgando cose che si possono trovare già in altri luoghi poi per rendere più corta l'edizione del video e il suo caricamento quindi vabbè che dire è un peccato mi spiace poi non è morto vecchio perché 85 anni oggigiorno non sono molti va bene dicono che si sia trascurato la salute cercate di non trascurarvi la salute voi come io non la trascuro perché basta poco e si vede la fine che si fa allora salutandovi a tutte tutti voi e ricordando la grande figura di paolo villaggio e delle sue creature fantozzi fracchia eccetera il ragioniere fantozzi fantocci no come lo chiamavano e le sue frasi emblematiche che non citerò in youtube se no magari mi censurano il video vi lascio mi sembra che chiamava la gente topolini vi lascio topolini un saluto dal vostro santenchan e guardiamoci le scene migliori e film di paolo villaggio in internet cosa che oggigiorno possiamo fare perché la rai aveva cessato di fare i suoi film con costanza magari li faceva con pippo baudo però con costanza no ciao grazie a tutti 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 grazie a tutti